Segnaletica orizzontale al Ponte Nuovo. In molti ci hanno segnalato che tra vernice sbiadita e mancanza di nuova segnaletica serve intervenire in tempi rapidi. Una segnalazione che noi abbiamo prontamente portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Verrà completata probabilmente verso fine mese perché c'è una piccola variante sul progetto presentato e fatto originariamente perché abbiamo sistemato sia la segnaletica che anche l'illuminazione pubblica per rendere più visibili e accessibili sia gli accessi che i passaggi pedonali. Per cui si è un po' rallentata l'andamento dei lavori ma comunque è transitabile e noi riteniamo che entro la metà di settembre possa essere tutto chiuso. I mesi di agosto e settembre vedranno partire anche altri due lavori legati alla viabilità cittadina. Partiranno sicuramente la posa delle barriere fondosorbenti via Viale di Gaspari, barriere volute fortemente dal quartiere, da chi ci abita e queste dovrebbero partire verso fine mese. Mentre partiranno dal 19-20 in poi i lavori a Campese, quelli relativi alla strada di via Contrafietto, anche questa voluta dal quartiere da qualche anno. Le dite avevano avuto lì qualche problema con reperimento materiali ma adesso partiranno e eseguiranno tutta l'asta di via Fietto per fare il doppio senso a nord e il senso unico con pista ciclabile nella parte sud.